Del corso è stato magnifico, praticamente tutte le esperienze che abbiamo fatto sono state davvero meravigliose. Consiglierei questo ritiro a tutti, proprio per mettersi in gioco, per rimuovere tutti i blocchi che tutti abbiamo e per vivere, continuare a vivere oppure no, rinascere in modo diverso e vivere poi di abbondanza. A livello di blocchi, paure, allora a livello di paura io avevo una paura grande, ma che poi in realtà ho capito che erano solo delle mie limitazioni dettate dall'ego, ma che era un ego molto intelligente perché me le faceva passare in una maniera che sembrava un discorso spirituale, ma in realtà non lo era, erano solo delle mie limitazioni. Per quanto riguarda la mia paura, con Patrizia mi è servito proprio passare attraverso la paura per riuscire a trascenderla e andare oltre. Il fatto di stare sempre fuori mi è piaciuto tantissimo, sono riuscita a scegliere sia Patrizia che Virginia dei posti davvero magnifici dove c'era un'energia molto particolare. Il fatto che siamo stati sempre fuori per me è stato magnifico, con un tempo così, un posto così bello era l'ideale. Abbiamo visitato dei posti davvero magici, molto forti energeticamente, fin da subito ce ne stiamo accorti. Abbiamo visto delle cose che in realtà in altre vacanze magari ho anche visto e vissuto, però qui le ho vissute proprio in una maniera diversa, proprio in un'ottava superiore ho fatto delle esperienze. È tantissima abbondanza, si è creato un bellissimo gruppo con le ragazze che erano qui con me, quindi delle bellissime amicizie. A casa mi porto tante esperienze positive, magiche, il fatto di essere rinata, rinata una nuova Lisa che non conoscevo. Oh moltissimo, grazie di tutto cuore Patrizia e anche Virginio, grazie mille. Grazie.